Una volta gonfiati tutti i nostri palloncini, siamo pronti ad allestire il nostro cuore. Essendo un cuore molto grande di dimensioni, io direi di allestirlo a terra, quindi create uno spazio ampio dove potrete andare a lavorare. Leghiamo i tre moduli tra di loro utilizzando i vari colli del palloncino. Vi faccio vedere bene il passaggio. Prendiamo i due moduli dai lembi e li leghiamo stretti tra di loro, in questo modo. Ben stretti. Doppio nodo. Facciamo passare dietro il lembo. Prendiamo le prime due doppiette e le andiamo ad inserire in questi due punti. Come facciamo? Prendiamo la doppietta, la inseriamo nel foro e la spingiamo verso il punto di legatura. Vi faccio vedere come. Inseriamo e spingiamo verso questo punto. Prendiamo l'altra doppietta e facciamo la stessa identica cosa. Per farlo entrare nel foro ci aiutiamo alzando un pochino i palloncini. E anche qui spingiamo verso il nodo. La base del nostro cuore è pronta. Allora passiamo al nostro serpentone formato da 16 link. Contiamo i palloncini e il nono palloncino sarà la punta del nostro cuore. Il nono palloncino sarà la punta del nostro cuore. Allora prendiamo il nostro serpentone, il nono palloncino con i due palloncini laterali e andiamo ad attaccare questa che sarà la punta del nostro cuore alla base che abbiamo appena creato. Andremo a legare la punta proprio qui. Adesso vi faccio vedere come. Legheremo sempre con i lembi dei palloncini la punta alla base. In questo punto prendiamo il lembo del serpentone e il lembo della base e li leghiamo tra di loro. Nono palloncino, palloncino laterale e il lembo lo leghiamo a quest'altro lato. Allora come potete vedere abbiamo la punta del nostro cuore e il serpentone che prosegue da un lato e dall'altro. e dovremo andare ad attaccare gli altri palloncini alla base. Adesso vi faccio vedere come. Partiamo da un lato. Allora abbiamo attaccato i primi tre palloncini. Proseguiamo verso un lato. Contiamo uno, due palloni. Prendiamo il lembo e lo andiamo a legare al lembo della base corrispondente. Allora proseguiamo. Contiamo altri due palloncini. Uno e due. Prendiamo il lembo di questo pallone e lo andiamo a legare al lembo corrispondente della base. Gli ultimi due palloni, uno e due. Ne lasceremo fuori uno. Prendiamo questo lembo e lo andiamo ad incastrare qui, legando i due lembi. E il primo lato del cuore è pronto. Lasciamo per il momento libero l'ultimo palloncino e procediamo a legare l'altro lato del cuore. Quindi sempre due palloncini. L'embo lo legiamo e proseguiamo. Arrivati a questo punto avremo un palloncino da un lato e due palloncini dall'altro lato. Cosa facciamo? Li andiamo a legare tra di loro. E proprio questo punto lo andremo a legare alla base del cuore. Qui. Nelle legature, cioè dove abbiamo legato il serpentone alla base del cuore, quindi sono otto legature. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Dobbiamo andare ad inserire otto doppiette. Una doppietta per ogni nodo. Per ogni legatura. Allora, inseriamo la prima doppietta. Dobbiamo andare a coprire questa legatura. Cosa facciamo? Spingiamo la doppietta dall'esterno fino ad incastrarla nella legatura. In questo modo. Prendiamo la doppietta e la spingiamo. Proseguiamo con la seconda legatura. Quindi prendiamo la doppietta dall'esterno e la incastriamo verso la legatura. Continuiamo. Terza doppietta, terza legatura. E in fondo, verso la punta, l'ultima doppietta di questo lato. La stessa cosa per l'altro lato del cuore. Per ultimare il nostro cuore, dovremo andare a riempire tutti i vuoti con le doppiette rimanenti. Così, così da riempirlo e renderlo più bello. Come facciamo? Prendiamo la doppietta e la inseriamo nel foro. Così. Ne prendiamo un'altra e la inseriamo nel foro. Ancora un'altra e in un altro foro. E così per tutti i fori rimanenti. Allora, ci sono però quattro fori in alto che sono molto piccolini. Vedete? Uno. Non so se riuscirò a riempirlo. E l'altro, eccolo qua. E poi gli altri due dall'altro lato. Possiamo sempre provare ad incastrare il nostro doppietto. Ovviamente ci vuole un pochino più di tempo e di pazienza. Oppure potete utilizzare un'altra tecnica. Se ancora non avete gonfiato le doppiette. Oppure utilizzando i palloncini di scorta. Ossia, gonfiare due palloncini singolarmente. Metterne uno sotto, uno sopra. E dannotarli tra di loro. Prendiamo un palloncino singolo. Lo inseriamo sotto. Tiriamo il collo. E lo annodiamo al collo dell'altro palloncino. Allora, poi avete anche il filo di nylon in dotazione. Io direi di attaccarlo alle punte del cuore. In corrispondenza di questi due palloni. In modo poi di andarlo ad ancorare nel modo giusto, nel modo corretto. Qui. Queste due punte. Una e due. Ci fate passare il filo di nylon. E quindi poi lo appendete dove volete. In ultimo le scritte. Allora, le scritte sono dotate di nastro biadesivo. Quindi potete attaccarle dove volete. Io ho pensato, vedete, qui, proprio la punta, di attaccare la scritta qui. Ma voi, ripeto, potete attaccarla dove volete. E io ho pensato, vedete. Ciao. Ciao. Ciao.